bravo charlie porta qua bravo, bravissimo, bravo, a charlie dicevo a fare degli agganci al naso oggi non ha proprio molta voglia di raspare e non bisogna neanche troppo insistere perché comunque la loro è un'età ancora molto tenera se vogliamo chiamarla così quindi non bisogna stressarli comunque questi devono essere momenti di gioco di creatività insomma non devono assolutamente interpretarlo come uno stress e per quanto riguarda i maschietti più che severi come ho detto prima bisogna essere autorevoli autorevoli intendiamo lo intendiamo con i toni di voce ovviamente charlie dove dai vieni qua charlie vedete bravissimo ha fatto un aggancio al naso eccezionale bravissimo charlie bravo